ciao questo nuovo video che il solito che faccio sui sui film che riesco a andarmi a guardare che visto che l'hanno messo sulle solite piattaforme piattaforme li voglio mai dedicare un video e portarlo e portarlo sul mio canale che che anche se mai come film 2 1 e 40 quasi 138 di film voglio parlare dedicare questo video a questo film che si chiama the last e rifle e man ritorno in bandia che che ho visto che come come si dice che come attori ci sono mai anche in questo film che chi più che altro ma lei parla che come trama espirata ma lei ha fatti ha fatti reali che sono successi magari veramente che parla più questo di questo di questa persona arti coford che è un veterano ma di guerra che ha più di 90 anni e trascorre di soggiornati ma in una casa di poso in nelle nel landa del nord che ha preso ha perso sua moglie ha perso sua moglie sta cercando di lottare con i fantasmi del mare del cui si dice del suo passato e quando è proprio questo a bussare alla sua parte in occasione in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco in normandia arti desidera partire per dare l'ultimo saluto al suo migliore amico scomparso in in battaglia ma ma la casa di riposo presso dove sta lui non l'autorizza lasciare la struttura per il suo mare benessere e dirti però non vuole proprio saperne così organizza una fuga una fuga e per un uomo della sua età ma con determinazione è un mare aiuto lungo la strada riuscire a aggiungere ma è la cui si dice la la francia che che più che altro ma è la trama di questo film e a questa qualche che visto che magari adesso come film 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 anche se è uscito a novembre delle 2023 e adesso magari l'avevano messo sui soliti piattaforme che se qualcuno magari a qualche abbonamento lo può recuperare magari anche gratis con il film che a parte che io magari quando è uscito a c ma non non è andato che ho sfruttato più che altro ma è questa opportunità che lo hanno messo sui soli temere a piattaforme per andammo andammo a vedere che come come si dice che come paese di produzione delle regno unito come come film e film che come si dice che magari più che altro ma è la trama di questo film e a questa qualche il livello tipo dedica e mai questo video e portarlo magari sul mio canale che magari come al solito ma mi lascio sotto sotto ma la descrizione magari il cast degli attori che hanno partecipato in questo film e magari si riesco a mettere qualche informazione magari in più sempre su questo film e ammetto sempre come al solito sotto in descrizione che più che altro magari questo film può toccare magari può essere come genere può toccare magari come genere guerra thriller come film che magari a chi magari piace magari questi film che toccano magari questi generi guerra thriller magari sicuramente magari è un è un film ad andarsi magari a a recuperare solo perché perché merita e niente che c'è come 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 si dice che come come atto c'è questo pierce brosnan e anche questo john amos lincoln come come attori che c'è uno magari qualche attore con riconosciuto in questo film e soprattutto ma il il potere quello che fa magari la parte del protagonista che una è un attore ma riconosciute che come regista di questo film e questo te terry lohan e niente quello che morai poterò mai dire su questo film marello già detta a massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti ma i video che portano mai sul sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao